L'eredità, perché Samira Lui è stata da Eleonora Rosio? Cosa è successo? Ai telespettatori dell'eredità non è certo sfuggita l'assenza in studio della professoressa Samira. La giovane ragazza è infatti stata sostituita da un'altra donna, Eleonora. In questa stagione il quiz game preserale di Rai un ettaro sempre visto. Al fianco del conduttore Flavio Insinna, due figure, quella di Andrea Cerelli e di Samira Lui. Negli ultimi giorni, però, c'è stato un cambiamento. Al posto di Samira è arrivata Eleonora, subito il pubblico si è chiesto il motivo della sostituzione. Sebbene non siano arrivate notizie in merito da parte della produzione, la cosa certa è che la nuova arrivata è in realtà un volto noto del programma. Eleonora Rosio è già stata una professoressa dell'eredità nel 2017, quando alla conduzione Cerelli compianto Fabrizio Frizzi. Classe 1985 ha anche partecipato al prestigioso concorso di bellezza Miss Italia. Dopodiché ha preso parte al programma di Victoria Cabello, Very Victoria, e ha lavorato anche per Sky. Non solo, ha recitato in alcune fiction tra cui un medico in famiglia e ha partecipato al tv show Rai. Mezzogiorno in famiglia. Il noto quiz game condotto come sempre da Flavio Insigne ha saputo sin da subito conquistare i cuori di numerose persone in tutta Italia. I fan non possono infatti fare a meno di restare incollati al piccolo schermo in modo da scoprire tutte le sorprese e i vari colpi di scena che vengono svelati puntata dopo puntata. Ad intrattenere il pubblico, ci sono infatti spesso due ballerini che danzano accanto al bancone e che dispensano alcune curiosità sulle domande da fare ai concorrenti. La nuova professoressa dell'eredità è sentimentalmente impegnata ormai da diversi anni. È infatti sposata con un imprenditore romano di nome Paolo, e i due sono sempre più innamorati e felici. Dal loro amore è nato anche il figlio Filippo, che compare spesso sui suoi profili social. Noi mai am nimic sa masac, pot sa ma ru ugly maile malo postale, mai sus. Mai sus, tot mai, tot mai sus, tot mai, mai sus, tot mai, mai sus, tot mai, tot mai. Tot mai sus, 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 sus. Si poate-ti dau totul peste cap, ca poate fac doar lucruri care-mi plac, Poate non mi brac la costum, poate non mi spug minciun Sunt libero a fiu stapan, pe ce fac si ce spun Sti, nimic nu mai e la fel Copilaria s-a maturizat sever S-a luvit pana acum de fel de